Buongiorno, buongiorno signori miei, buon sabato 14 maggio, ne ho sentite di ogni sul futuro di Paris, c'è allora urge un placcaggio. Sì, ho superato ogni limite, ho superato ogni limite, mi scuso di questo, ma spero di strapparvi un impercettibile, quantomeno accennato, sorriso, così magari la giornata parte in qualche modo. Spero non come la mia, che come al solito faccio fatica a carburare, ma detto ciò e non vi assillo con le mie stupidaggini, e quindi andiamo veramente a parlare del futuro del croato, perché dopo le sue dichiarazioni, e torneremo anche su quelle, anzi parleremo di quelle, io non l'ho mai fatto ancora, ci hanno sguazzato, ci si sguazza, ci si sguazza, e addirittura è stato accostato alla Juventus, la quale in realtà, più che a Persic, sta pensando all'angelo di Rosario, El Fideo, Hagel di Maria, e parleremo anche di questo, ma partiamo con ordine. Prima di ogni cosa, lasciate un like al video se volete seguire i prossimi, o meglio, se volete più e più contenuti, no, dai, ci sta, e quindi iscrivetevi per seguirli questi contenuti, e vi ringrazio sempre, un grazie è dovuto, un grazie è caloroso per il vostro supporto, che come al solito non manca, e poi, cosa non meno importante, per rimanere attivi, per rimanere aggiornati, per essere lì sempre sul pezzo, OneFootball, perché grazie a OneFootball, aggregatore di notizie, siete lì, ah, allo scoperta, delle ultime, delle recenti, novità, sui temi calcistici, quindi, calcio mercato, highlights, classifica, calendario, c'è di tutto, l'app è personalizzabile a 360 gradi, per cui, ragazzi, che stiate aspettare, che state aspettare, è anche gratuito, quindi, link in descrizione, QR code, ma provatela, testatela, e poi mi direte, no, e poi mi direte, detto questo, via, partiamo, da Perisic, Perisic, il quale, ieri, era stato, ieri si parlava addirittura di un accordo tra il giocatore e una squadra inglese, il, il Chelsea, ma subito è arrivato un signore, a smentire tutto, no, voi state un po' esagerà, ne dite un po' troppe, allora intervengo io, io che di nome faccio Fabrizio e di cognome mi chiama Romano, proprio lui, e cosa ha detto il caro esperto Fabrizio Romano, che qualcosina, ne sa, è un pochettino più attendibile rispetto agli altri, lo è, cosa ha detto, Perisic non ha ancora accordi con nessun club, è apprezzato da Tuchel fin da gennaio, ma il Chelsea è ancora in attesa di negoziare, nulla ancora fatto, l'Inter spera di raggiungere un accordo con Perisic, ma deve migliorare la propria offerta, e allora sull'offerta ci arriviamo, lui dice anche che Ljubicic non è il suo agente, questa potrebbe essere anche una frecciatina, potrebbe essere anche una frecciatina, non ci è dato saperlo, forse sì, a proposito di accordi, Pedulla invece ci fa sapere che Perisic, falso e tendenzioso che l'Inter abbia offerto 3 milioni, sono 4 e mezzo a stagione sul piatto, e ci sarà un nuovo incontro e il Croato non ha impegni con nessuno, prima parlerà con l'Inter e poi si vedrà, ecco, ecco, ma l'offerta è quella, 4 milioni e mezzo, la domanda invece, stando a quanto si diceva in passato, è di 6 cucuzze, ecco, ecco, facciamo un rewind, e torniamo a quello che ha detto, per chi ancora non lo sapesse, magari gli è sfuggita la cosa, ma non credo, al termine della finale di Coppa Italia, premiato come miglior giocatore della partita tra l'altro, cosa ha detto Ivan, con i giocatori importanti non si aspetta l'ultimo momento, dovete sapere anche questo, con i giocatori importanti non si aspetta l'ultimo momento, queste le dichiarazioni del ragazzino 33enne di Spalato, i tempi, a modo mio, sbagliatissimi, cioè dopo una finale di Coppa Italia, temporeggiano, trova il modo di sviare, invece toglierti i sassolini proprio dopo una finale, ragazzi, non mi è piaciuto, devo essere sincero, non mi è piaciuto, attenzione, non dico che lui non abbia le sue ragioni, perché stiamo parlando del miglior giocatore dell'Inter per rendimento in questa stagione, con distacco, cioè prima c'è Perisic con un voto 9 e poi ci sono gli altri da 8 in giù, per fare un esempio, perché la stagione di Perisic, ragazzi miei, e lo dice uno che era tutto tranne che un fan del croato, la stagione di Perisic è da 9, veramente da 9, poi al netto di come finirà, la stagione è stata clamorosa e che devo dire? Sì, soprattutto quando poi Marotta era andato prima ai microfoni a dire che no, c'è fiducia, c'è fiducia, c'è fiducia, c'è ottimismo per il futuro, per l'accordo col giocatore e vedremo. Ripeto, in realtà penso che l'Inter comunque durante questa stagione un pensierino ce l'abbia fatto, parliamo di un giocatore che come ho detto prima ha 33 anni, quindi è anche giusto che l'Inter stia lì a valutare un pochettino il da farsi, perché se la domanda è 6 milioni per un giocatore di 33 anni, onestamente, onestamente devi un po' valutare il da farsi. L'Inter è qualche offerta durante la stagione, l'ha fatta come già sappiamo, poi l'accordo non si è trovato al 100%, ma vedremo sostanzialmente. Quello che è il mio pensiero, i giocatori forti si pagano, il mio pensiero è molto semplice, e stai parlando di un giocatore che è vero ha 33 anni, ma è un giocatore che a 33 anni ha fatto la sua migliore stagione di sempre, cioè il Perisic per rendimento, quello che ha fatto in questa stagione non l'ha mai fatto, lo ha fatto l'anno scorso, l'anno scorso ha avuto una grandissima stagione, ma quest'anno addirittura ha fatto meglio rispetto all'anno scorso, quella di quest'anno e la scorsa sono state le migliori della sua carriera, quindi questo fa sì che davvero merita un rinnovo e merita anche cifre considerate se è il migliore per rendimento della squadra. Io penso questo, quando ti guadagni la pagnotta, quando ti guadagni uno status, è giusto che ci si approccia e si abbiano delle valutazioni importanti, ecco, senza ogni tiro. Ma questo, quello che succederà, lo valuteremo a fine stagione, abbiamo visto che c'è ottimismo, non dico per la permanenza, però le cose, cioè l'Inter secondo me parte avvantaggiata, se vuole i due possono accordarsi, anche se parliamo di cifre, come ho già detto prima, è importante, quello farà la differenza. Ma c'è la possibilità che vada alla Juventus, come ha riportato poi la gazzetta dello sport, perché è passato lo sfogo, fissato l'appuntamento per rinnovo del contratto, ma adesso anche i bianconeri pensano al croato che si libera. a zero, perché, come poi ha riportato anche Eurosport, vado a leggere, resta ampia sullo sfondo, si affaccia la Juventus che saluterà, perché la Juventus saluterà Bernardeschi e da settimana segue con le antenne dritte la situazione del croato. Fra le richieste avanzate da Allegri ci sarebbe anche quella di un esterno di fascia sinistra, capace di saltare l'uomo e innescare con cross Vlaovic. Vista, secondo la gazzetta, la difficoltà di arrivare a Di Maria, che al PSG guadagna 15 milioni di euro e ha sparato alto. È zagnolo, per cui la Roma chiede a non meno di 50 milioni. Secondo la gazzetta, i bianconeri stanno lavorando sotto traccia per lo sgarbo all'Inter. Io in realtà ci credo pochino al momento, ci credo molto molto pochino per i sociali da Juventus. Credo invece che ci sia qualcosa di concreto e ci siano possibilità più elevate di vedere Di Maria alla Juventus, nonostante la gazzetta dica il contrario. Perché? Perché le fonti vicine alla Juventus dicono e pensano questo. E vado e riporto il tweet di Agresti, che sul mondo Juve, ragazzi, è affidabilità top. Sapete, no? Mi dà affidabilità top. È affidabilità top. E cosa dice Romeone? Romeone dice Di Maria, entra nel vivo la decisione della Juventus. Massimo apprezzamento tecnico, ancora valutazione in corso, circa il tema ingaggio età. È previsto nelle prossime ore un nuovo contratto con l'entourage dell'Argentino. in realtà poi ho seguito anche il suo contenuto su YouTube. Il giocatore, sapete, andrà via dal PSG, vuole restare almeno un altro anno in Europa, no? Vuole restare almeno un altro anno in Europa e poi ritornerà in patria. È calda questa voce, è calda questa possibilità è attraente, è attraente per la Juventus perché parliamo di un giocatore che ha un leadership importante ed è un giocatore che ha un bagaglio tecnico superiore, superiore alla media, nonostante l'età e l'ingaggio. Quelli invece sono, come si dice, il deterrente? Si dice così? O comunque sono la discriminante? Ci siamo? Forse sì, forse no. Detto questo, parliamo di uno che è classe 88 e che appunto ha 34 anni suonati, bollati, ecco, chiamiamolo l'Italia. Di Maria è un giocatore che fa la differenza. Allora, quante volte mi avete sentito parlare del PSG? Sicuramente poco perché sfortunatamente parliamo di altro, ma quelle poche volte in cui mi sono imbattuto in una partita del PSG e in cui giocava Di Maria ho sempre detto. Ma lì si parla e gode di ottima stampa gente come Mbappé, come Neymar, adesso mica tanto Messi, però soprattutto il premessi si parlava sempre soltanto di Mbappé e Neymar. Anche, giustamente, perché sono giocatori di cui, giustamente, di cui si va. Però veniva sempre messo, no? Veniva sempre ombreggiato, messo in ombra appunto Di Maria, quando in realtà Di Maria era il giocatore perfetto, era il collante perfetto, un giocatore che innanzitutto come posso dire abbinava qualità e quantità, è un giocatore che lega bene centrocampo e attacco, è un giocatore che può giocare in più in più reparti, in più ruoli, è un giocatore molto, molto, molto volubile sotto, sotto questo, questo aspetto e poi un giocatore che tecnicamente parlando suona uno strumento fantastico, uno strumento che, che, che ti porta, no? a delle melodie che, che, che ti rilassano, ecco, diciamo così proprio per, per un po', per di qualcosa. Detto, detto questo, vedremo, vedremo se ci sarà la possibilità o meno, vedremo se davvero la Juventus, se la vuole giocare così, anche in termini di progettualità, perché, scusate, va via di bala anche lì, per una questione, valutazione del giocatore, valutazione anche dell'anagrafica e, e quindi si decide di non proporgli un contratto importante. Il contratto che andrebbe proposto a Di Maria sarebbe comunque elevatissimo per, per un giocatore che, come abbiamo detto prima, di 34 anni, che, ripeto, e apro e chiudo parentesi, se viene in Italia, se viene in Italia 34 anni, quelli che so, come abbiamo visto, con Tanamazze fa la differenza, farebbe la differenza. Quindi voglio vedere, voglio vedere come, come finirà. Sicuramente molto più Di Maria che Perisic alla Juventus, resto fiducioso sul Croato e sulla possibilità che possa rimanere all'Inter, ma queste sono le mie sensazioni e le mie sensazioni, come ho sempre detto, contano meno di zero. E quindi ditemi le vostre sotto, nei commenti e io nell'attesa vi abbraccio. Vi abbraccio forte, vi abbraccio caldamente ciao ragazzi, ciao signori miei.